Un appello che faccio a tutti i presidenti, ma devo dire nel Lazio è già colto perché sono a livello di numero uno su questo, di seguire il piano, quindi over 80, 70, 79, over 65. Non disperdiamo le dosi in altri rivoli, dobbiamo seguire questo piano in modo da poter aprire al più presto alle classi produttive, turismo, spettacolo, lo sport, come è stato accennato, vaccineremo a brevissimo gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi perché anche questo è un segno dell'Italia che riparte.